In questo progetto di Sette Marzino, il tetto cita, personaggio importante della storia della città di Imola, un medico, un viaggiatore, un giornalista, un uomo animato da mille curiosità. Mi piace prima di passare la parola e ricordare i partner di questa bella avventura di questo viaggio, la scuola di istituto contensivo 7 di Imola, la più che ha il calcolo di liceo papà di Galleghiano e di Sanchio da Imola, e poi per figlio, per figlio scuola di una levinola e ancora in un decimo di Imola, di un'attività culturale delle proprie di Imola. Classico di noce, ben 10 classi della scuola primaria e secondaria di primo grado e 248 studenti all'opera che si sono sbizzagliati per far ricerca e per proporci risultati decisamente interessanti. A voi la parola, Cazia. Grazie mille.